Il comparto 1 del quartiere Sant'Ana vuole diventare un quartiere sempre più a misura di cittadino. L'ultimo step è stato quello delle installazioni che mancavano, delle rampe disabile per accesso a chi non può camminare. Le rampe sono state realizzate tra via Conenna, via Vitale e via Spizzico, cosa che permetterà ai residenti del quartiere di raggiungere facilmente le attività commerciali, la parrocchia e le attività ludico-sportive poste all'interno del comparto 1. Ma di contro, se da una parte l'amministrazione municipale cerca con questi dettagli di rendere Sant'Ana un quartiere sempre più vivibile, dall'altra i cittadini della zona lamentano la scarsa attenzione. Pare infatti che da qualche giorno nelle ore serali via Conenna resti al buio, lasciando tutti nell'oscurità più totale. Perti per me sono due giorni che rimaniamo senza luce, su tutta la strada. Altro dettaglio è quello dei rifiuti abbandonati per strada. Anche qua dovrebbe arrivare l'anno, ma i ragazzi si mettono sia all'esterno che all'interno e chiudiscono loro. I residenti infatti ci raccontano che con un piccolo contributo per ogni condomino pagano dei ragazzi che giornalmente vengono a manutenere la zona, portando via cartacce e tagliando le erbacce incolte delle aiuole.